Gli studenti della scuola Ettore Romagnoli del progetto La Legge Uguale per Tutti oggi sono stati ospiti del Palazzo di Giustizia di Gela. La finalità del progetto è quella di incrementare nei giovani studenti il senso civico e il rispetto della legge e di renderli consapevoli che al compimento del 14esimo anno di età i reati da loro commessi vengono puniti dalla legge. Il progetto mira a far conoscere agli alunni il funzionamento della macchina della giustizia. I ragazzi hanno assistito ad un'audienza penale dinanzi al giudice monocratico Mari Camarino che ha spiegato agli studenti alcune fasi del processo penale. Siamo molto entusiasti perché ci ha reso consapevoli che al 14esimo anno di età siamo imputabili davanti a un tribunale quindi anche per far prendere consapevolezza a noi e agli altri nostri compagni che anche se siamo minori possiamo essere comunque imputati. In questo incontro ho imparato non solo le curiosità di queste pene ma anche come funziona questa macchina della giustizia. Nel corso della manifestazione di oggi erano presenti il procuratore capo Fernando Asaro che ha colto con favore l'iniziativa auspicando una sempre più forte collaborazione tra istituzioni dello Stato e il magistrato Silvia Passanisi che ha organizzato l'incontro. Questa è la casa di tutti i cittadini, di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia in questa terra perché il palazzo di giustizia non è il palazzo degli altri dove non andare è il palazzo delle istituzioni, è il palazzo aperto a tutti noi. Non ha adottato un ruolo maggiore del nostro in quanto noi siamo semplicissimi alunni lui invece era un procuratore capo ma comunque si è messo alla pari con noi infatti abbiamo parlato anche di squadre di calcio per farci capire i reati in generale soprattutto quello del furto ha fatto appunto l'esempio del ragazzo, del compagno che ruba la penna magari per un compito quindi veramente una persona grandissima. Il progetto è stato ideato ed elaborato da Valeria Cuba in sinergia con il dirigente scolastico Sandra Scicolone nell'ambito delle attività finanziate per l'area a rischio. La tappa successiva importante del progetto è quella di visitare anche il carcere che rappresenta in un certo senso il tassello, l'ultimo tassello del Mosaco quindi l'ultimo anello della catena giudiziaria che può servire ovviamente come deterrente per questi giovani ragazzi. Dimostrare che la collaborazione tra forze e rappresentanze dello Stato può essere fattiva, reale, credibile e tangibile diventa per noi un tassello fondamentale nel processo educativo per i ragazzi. I ragazzi prima di tutto sono persone, persone, cittadini, abitanti di una realtà sociale con delle caratteristiche specifiche ma fondamentalmente abitanti di un contesto in cui la relazione e il rapporto con l'altro è determinante e il rapporto con l'altro è determinante nel momento in cui si vive all'insegna della giustizia e del rispetto delle regole degli altri e di se stessi.